Buongiorno scintille di luce, eccoci alla nostra lettura della settimana. Andiamo subito a vedere con le nostre carte degli animali quale spirito ci accompagna questa settimana. Ne sono usciti due. Sono due animali che già abbiamo visto, lo spirito del maiale che ci dice di usare la mente in modo molto saggio e lo spirito del cane, si leale verso ciò che ami. Allora, lo spirito del cane ci chiede fedeltà, lealtà, ma soprattutto verso noi stessi. Il cane è fedele a se stesso, è fedele al suo branco, è fedele a tutto ciò che gli è utile per crescere, per vivere. Quindi ci chiede la lealtà verso ciò che amiamo, verso ciò in cui crediamo, ma soprattutto verso ciò in cui siamo. Lo spirito del maiale ci dice di usare la mente in modo molto saggio. Molti infatti pensano che il maiale non sia molto intelligente. In realtà è un animale molto intelligente, a cui possiamo insegnare qualcosa che è propenso ad imparare. Quindi quando si usa la mente in modo saggio, vuol dire proprio utilizzare la mente completamente, non solo la nostra parte razionale, ma anche la parte intuitiva, di metterle insieme, di andare a utilizzarle in maniera armonica. Bene, mettiamo qua i nostri due animalini, andiamo a vedere un po' invece il mazzo degli angeli, cosa ci dice, cosa ci propone, cosa ci porta come messaggio per questa settimana. Allora, il sei di fuoco, il mondo, l'asso di fuoco rovesciato, il cavaliere di terra, il cinque di fuoco e sul fondo del nozzo ammasso abbiamo la forza rovesciata. Ok, la forza rovesciata mi fa pensare che alcune persone saranno portate a utilizzare una forza non armonica, quasi una rabbia, mi verrebbe da dire, una rabbia repressa che cercano di sfogare sugli altri, imponendo determinate azioni, determinati comportamenti, determinate scelte. Mi fa pensare molto a una situazione di odio, a una situazione di giudizio verso gli altri, quasi a voler giudicare dalla propria altura, credendosi magari una spanna sopra gli altri, le azioni che altre persone devono compiere, devono seguire, devono agire. Questa è un po' l'energia di questa settimana. In effetti abbiamo un sei di fuoco anche in questo caso, perché sia una carta molto bella, che parla di riconoscimenti, mi dà proprio l'idea anche di qualcuno che sta sull'alto, sul cavallo e decide in che direzione andare e decide cosa fare. Poi abbiamo il nostro mondo, però abbiamo un asso di fuoco subito dopo, come di una strada bloccata, come se molte persone si sentissero ancora bloccate sulla strada che hanno scelto, è come se ci fosse questa energia che dice no, di qua non si passa, torna indietro, fai un passo indietro e vai a vedere cosa non hai ancora compreso, non hai ancora lavorato, perché comunque il mondo è un lavoro concluso, parla di gioia, parla di soddisfazioni, parla di un sentiero intrapreso verso la propria anima, però l'asso di fuoco qua in questa posizione mi fa pensare che c'è ancora un tassello mancante che bisogna andare a recuperare e allo stesso tempo abbiamo ancora il nostro cavaliere di terra che parla di mettersi al lavoro, di rispettare i propri impegni, mentre viene seguito ancora una volta da un cinque di fuoco che parla di conflitto. Ancora in questa situazione di questa settimana si parla molto di conflitto, molto di odio, c'è ancora un cammino sottostante, quindi alcune persone che nelle settimane indietro abbiamo visto hanno preso la strada verso la propria anima, verso la propria illuminazione, continueranno questo cammino, però ci saranno più blocchi, più occasioni per andare a vedere quei tasselli mancanti che ora vanno messi al loro posto. Andiamo un po' a vedere con le nostre oli. Qualche informazione in più, ma soprattutto cosa c'è che ci può dare una mano? Gli oli lo sappiamo, ci aiutano a lavorare. Andiamo a vedere. Qui c'è da lasciare andare molto odio, molto giudizio nei confronti delle persone, degli altri, ma ricordiamoci che spesso questo giudizio lo diamo prima di tutto a noi, verso di noi. Ok. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo il vetiver. Abbiamo la miscela della felicità. Abbiamo la rosa. Abbiamo il pettigrain. Abbiamo la camomilla romana, la metto di qua. Sul fondo del nostro mazzo, la miscela della trasformazione, del cambiamento. Che dire, oli meravigliosi. Allora, partiamo dalla camomilla romana. La camomilla romana è l'olio del pensiero spirituale. È l'olio che ci aiuta a trovare lo scopo della nostra anima, a restare connessi con la nostra anima. Ci aiuta nei momenti di scoraggiamento, nei momenti di incertezza, nei momenti in cui la rabbia viene fuori in maniera potente, ci lascia in riquietezza, nervosismo. Quest'olio aiuta a lasciare andare. Infatti il suo messaggio è libero la mia anima e trovo la pace in connessione con l'universo. Lavora moltissimo sulla rabbia. Quindi è già un olio che ci aiuta molto a calmarci, no? La camomilla romana la conosciamo perché la usiamo magari degli infusi per prima di addormentarci, specialmente magari con i bambini. Ecco, il suo messaggio però a livello più spirituale è proprio lasciare andare il nervosismo, l'irrequietezza, la frustrazione ma anche la rabbia e trovare la nostra centratura. Centratura che ci viene ancora una volta sottolineata dal vetiver. Il vetiver è l'olio della centratura. Il vetiver è l'olio che ci aiuta ad andare in profondità. Il suo messaggio è trovo il mio equilibrio qui e ora. E' un aroma forte e ci porta proprio alla stabilità, alla fermezza. ci porta a trovare il nostro centro, organizzare i nostri pensieri, stabilizza il consumo di energia, ci mette anche davanti al riposo, aiuta contro lo scoraggiamento, contro lo stress, la mancanza di radici. Per chi magari si sente inquieto, nervoso, tornano gli stessi messaggi un po' della camomilla romana. Ma il vetiver fa un lavoro più di centratura, più di portarci alle radici. La nostra miscela della felicità contiene molti oli, tra cui la lavanda, il sandalo, il mandarino, la melissa. E' un olio che ci porta gioia. Il suo messaggio è lascio che la gioia entri in me e illumini la via. Ci aiuta a creare un certo distacco dalle nostre vecchie abitudini, dalle nostre dipendenze e a trovare la nostra gioia, la nostra luminosità, la nostra voglia anche di fare, anche di avere relazioni piacevoli e sincere. Quindi ci aiuta anche a connetterci con gli altri, oltre che con noi stessi. E' utile per meditare. E' un'ottima miscela di meditazione questa. La rosa. Beh, la rosa è l'olio del divino amore. E' l'olio il cui messaggio è Mi apro con compassione all'amore e alla guarigione. E' olio degli oli, forse con la vibrazione più alta. Lavora sul mancanza d'affetto, sul sentire il cuore chiuso, sulla disperazione, sul senso di separazione. Ci aiuta a sentirci parte della creazione. Ci aiuta a sentire l'amore di Dio, dell'universo, del creatore. Comunque lo si voglia chiamare. E' utilissima per meditare, per le preghiere. Aiuta a lavorare proprio sull'amore, sulla fiducia e sull'apertura del cuore. L'apertura del cuore, quando c'è odio e rabbia, è proprio ciò che serve. Perché possiamo lasciare andare l'odio, la rabbia, solo se lavoriamo dal cuore. Solo se ci apriamo all'amore. Quindi la rosa, assolutamente in questo lavoro, ci dà un grosso aiuto. Il pettigrain. E' l'olio della tranquillità. Il suo messaggio è, mi concedo la libertà di essere felice. Ricordate la miscela della felicità? Benissimo. Fanno un lavoro combinato. Lavora a stimolare il rilassamento profondo. Dona calma. Dona energia nei momenti in cui siamo sotto, in situazioni stressanti, soffocanti. Bilancia i nostri sbalzi di umore. Riequilibria le nostre emozioni e ci aiuta a lasciare andare le emozioni negative. Insegna ad essere più consapevoli delle nostre dipendenze, di quello che ci impedisce di essere felici. Lavora sullo stress, sulla dipendenza e sui blocchi emotivi. E per ultimo, ma non ultimo, la nostra miscela della trasformazione. Rinnovo il corpo e lo spirito e mi sento libero di cambiare. Contiene moltissimi oli, il lemon grassi, l'incenso, l'arancio, i chiodi di garofano. Il suo lavoro è proprio sul permetterci di lasciare andare ciò che non ci serve e rigenerare ciò che ci è utile. Quindi aiuta il nostro corpo, ma anche e soprattutto il nostro spirito, a lasciare andare ciò che non gli serve e a rigenerare, a dare nuova vita a ciò che è utile. Infatti abbiamo il lemon grass che conosciamo come l'olio della pulizia, proprio che dà una mano a lasciare andare, faremo allo stesso tempo, abbiamo incenso, arancio, che aiutano la rigenerazione. Quindi ci aiutano proprio nei momenti di scoraggiamento, di debolezza, proprio perché vanno a ripulire il nostro corpo, la nostra mente e a darci la nuova ricarica per affrontare la vita con nuovo entusiasmo. Quindi che dire, ogni che vanno a lavorare proprio sul lasciare andare le emozioni pesanti e rigenerarci per aprirci a una nuova vita. Questo è il messaggio di questa settimana, rigenerati e apriti all'amore. E con questo vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima. Buona giornata, scintille di luce. Buona giornata, scintille di luce.